Prendi un libro e lascia un libro. Si chiama così l'iniziativa della Coldiretti e Mercato Campagna Amica di Caltanissetta, in collaborazione con la cooperativa Etnos, per far conoscere nuovi mondi e nuove esperienze. All'evento di presentazione del Book Crossing, che si è svolto stamani insieme al presidente Francesco Cucurullo, hanno partecipato gli studenti dei corsi linguistico e coreutico del liceo classico Ruggero VII di Caltanissetta, accompagnati da Loredana Scintilla, referente del progetto lettura dell'istituto, e da Claudio D'Agostino, coordinatore del Mercato Nissero. I mercati Campagna Amica vogliono essere un contenitore culturale dove ci sono parecchie iniziative. L'ultima appunto è quella del libro, dove le persone che vengono a comprare il mercato hanno l'opportunità di prendere un libro scambiandolo con uno loro e quindi condividere la cultura del buon cibo e dei valori connessi al cibo, quindi salubrità, genuinità rispetto per l'ambiente e anche alla cultura cartacea. In un mondo oramai che vive soprattutto di digitale non dobbiamo dimenticarci l'importanza di sfogliare un bel libro. Abbiamo voluto partecipare a questa bellissima iniziativa, prendi un libro, lascia un libro, per sottolineare l'importanza della cultura e in particolare quella della lettura. E così magari le persone durante la spesa nel mercato di Campagna Amica, dove i cibi sono a chilometro zero, oltre ad arricchire l'organismo e il corpo è possibile anche arricchire la mente, prendendo un libro e lasciando un libro.